Musica Questo è un luogo da vivere, un luogo che venti anni fa non era più così, era morente, ma il fai è arrivato qui, lo abbiamo restaurato, noi gli abbiamo arrivato vita e adesso i nostri concittadini, i turisti, lo riempiono con il lavoro di vita, con il lavoro di gioia e con tutta l'allegria che questo posto è capace di suscitare. Musica Questo è l'unico epogeo ancora attivo di Agrigento, dei 18 originari. L'acqua quindi come vedete, prima quindi trasportava l'acqua da qui al centro della città, oggi invece viene utilizzata proprio per irrigare tutto il giardino. Mentre questa è nota come la vecchia zebbia. La zebbia è una vasca appunto in terra costa oppure in terra abbassuta che viene utilizzata dagli antichi contadini. Musica Partendo da questi alberi, da questa terra, da questo paesaggio, noi alla fine raccontiamo le nostre tradizioni, il modo di coltivare gli agrumi di una volta naturalmente, e il modo di vivere di una volta. Quindi è un paesaggio questo che oltre alla bellezza, ora c'è il profumo meraviglioso degli agrumi, il sapore straordinario dei frutti. Perciò si è tutti con la pastella. Ma questo paesaggio davvero racchiude una storia preziosissima che grazie al faio è possibile raccontare. Musica 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 Musica